Un anno è solo un numero, un giro completo della nostra terra attorno al sole, ma è sempre uno stadio della nostra vita terrena. Ci siamo stupiti dell'esistenza, della vita, del miracolo di essere persone? Abbiamo davvero amato i nostri familiari, gli amici, i conoscenti? Abbiamo amato noi stessi? Quante volte abbiamo davvero scandaliato la nostra mente per cercare di capire come davvero funziona? Se siamo rimasti bloccati su un semplice numero relativo al completamento dell'anno 2017, che senso ha festeggiarlo? Ogni istante dovrebbe essere una festa, nel senso che se siamo consapevoli della nostra esistenza, il nostro cuore si riempie di stupore e di meraviglia. Si vive autenticamente solo se abbiamo la consapevolezza di come davvero funziona la nostra mente e di tutto ciò che abbiamo ricevuto dagli altri e da Dio stesso.